Mario 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 Super Mario GALAXY Salve Bentornati al Let's Play di Super Mario Galaxy Gaston Versus e questa è la parte numero 8 mmm siamo vicini a alla sconfitta di Bowser e per la prima volta oggi non c'è il mio amico Franz per 98 e quindi dovrò fare da solo io sono Disney64 e vi auguro buona visione a tutti allora partiamo con la galassia dolce arrampicata mmm bellissima come galassia sali in cima Mario ok 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 posso prendere anche un po' di tempo ok 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 Grazie. Grazie. Ok. Ovviamente dovete salire tutti questi passaggi. Qua ci sono invece gli scarapetoli. E' semplice. Fatto. La nostra 52esima stella è qua. Perfetto. Cioè, non è che ci voglia tanto. Avete visto lo sfavillotto ghiotto di fuori? Adesso farò quello. Bene, ho anche scoperto l'ultima galassia di là. Perfetto. 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 Benissimo. Ho voluto fare questa parte prima che arrivi il mio amico. Perchè. Uno devo recuperare. Secondo invece voglio fare l'ultima. da parte con cui affrontò Bowser con il mio amico. Appunto. I pesci prossimi e l'esca dorata. Mmm. Facilissimo. Tutto. 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 Ok. Praticamente. Entrate qui. Dovreste prendere i cinque spicchi stellari sotto. Ma potete far così. Intanto prendo un po' di astroschegge. Potete far così semplicemente. Piacomo. Eccolo qua è lo stesso. Questa. Mi va? Non muévoli. A me lieto, ma. Se sarà popolato di Buh. Adesso. 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 e per me tradu o mario si 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 la stella che ho preso bella stella bella prendi questa stella ma va ce l'ho fatto tutto tutta la cosa per niente questa volta ho controllato a memoria è vuota, quasi vuota quindi abbiamo spazio allora dobbiamo andare sopra a sbloccare l'attico ma c'è anche la stanza dei bimbi da fare però preferisco prima a sbloccare l'attico ok su per la sala motore aspettiamo va almeno allora perfetto aspettiamo 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 per questo gioco di roba devo fare eccoci qua stanza dei bimbi ho perso due minuti solo per fare questa roba qui però ne è valsa la pena aspettiamo perfetto vi ricordate di questo posto spero di sì aspettiamo questo pianeta in a a io ho visto qualche mese fa questo pianeta quando ho fatto la prima parte qualche mese fa si 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 non mi interessa la tua storia si si sembra si 100 monete ecco e questa è la stella plano mario plano perfetto potrete volare con mario plano riuscite a prenderle tutte subito non avete più problemi bene quelle lì le prenderò più tardi perchè tanto dovremo tornare sopra potete fare le pirouette per attirare gli oggetti perfetto ok secondo segmento non me ne ero accorto bene stavamo prendendo le monete viola su avanti monete 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 ancora ancora monete ancora monete sempre più monete sono contate le monete sono contate le monete dovrete stare a prenderle tutte 85 benissimo qua ci sono delle altre sono 1 1 1 2 1 1 e adesso mancano quelle che abbiamo lasciato qua se non sbaglio 1 1 3 4 5 5 6 7 7 8 9 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 12 13 14 14 14 14 15 perfetto e dedo aioh allora partiamo con questa galassia grotta sotterranea questa è una delle più belle galassie che esistono qua nave spettrale magica non è un granché ma ci potremmo come dire renderla un po' più divertente allora puri 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 non sono brava fischiale vabbè allora allora perfetto ora dovremo aspettare per forza che l'effetto finisca ok se colpiamo il fiore fuoco vola via perfetto tutto 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 ci serve il fiore fuoco perché perfetto ho anche ammazzato il granchi tutto un altro livello sotterraneo questo in calma ho distrutto la il francese di qua ecco la quana spettrale c'è anche un fungo energia ma non ve lo farò vedere perfetto allora questa è la solita strunzetta che abbiamo trovato alla come si chiama alla galassia polvere di stelle ah sono costruccato proprio distrutto la cassa grazie per il guscio grazie allora via repa allora adesso comparirà al centro comparirà e affetto si vabbè non serviva niente è Sì, sì, sì. Poi ci sarà questa stella da fare in modalità pericolo, cioè con uno di vita. Ma sarà molto più avanti, in una delle ultime parti, magari proprio l'ultima. Perfetto, 17 minuti e abbiamo 5 stelle, 4-5 non mi ricordo. Mi sembra 4. Allora, ho preso questa, questa, quella e quella. Quattro stelle. Ah, la galassia di Reschielo Pesce, vogliamo sapere il gioco? No, grazie. Reschielo Pesce lo farò poi. Perfetto. Allora, ho voluto sbloccarvi la galassia e il resto flotta, ma continueremo con questa. Perfetto, passeggiata aerea con sparaacqua. Sarebbe Splak 3000. Però, non, 3, vedete lì, è la stessa invocatura di Splak 3000. Bene, questo, questo scemootto, lo lasciamo perdere noi, non ci serve. Non chiedetemi perché, ma non ci serve. Dovreste far comparire un fiore, un fiore ghiaccio, accendendo quelle torce col fiore a fuoco. Perfetto. Invece noi, faremo così, al vecchia maniera. Perfetto. Siamo già qui. Siamo già qui. Perfetto. Ok. Come si tratta la mancanza del mio amico, molto più bello. Ahia. Pecismac. Ok. E' anche finito il segmento. Bene, 20 secondi alla fine del segmento. 10 secondi. Bene, terzo segmento, ancora di 10 minuti questa volta. Perfetto. Non so dire altro. Oggi è stato tutto perfetto. Benissimo. Non sappiamo di modo gioco. Ehi. Ehm, peccato. E sarebbe la comitata pericolo che vi ho detto prima. Invece, passiamo a una galassiata flotta a questo punto. Laser, 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 faccio una scorciatoia. Ehm, sì. Chiamiamo la scorciatoia. Non so che orecchiano, sono le 11. Ahia. Ostia. Forse ci sono 40 gradi. Forti. Quaranta gradi. Celsius. Forti. Yahoo. Due di energia. Allora, tu crepa. Tu crepa. E tu crepa. E tu crepa. No, prendiamoci anche il... Sì, lo so, anche quella sarà una scorciatoia, ma... Non so mai riuscito a farla, quindi. Non so mai riuscito a farla. Non schiacciarmi, ecco. Tutti e per indietro. Dai, su. Perfetto. Quasi schiacciato di nuovo. perfetto basta dire perfetto questo display è perfetto tranne con la registrazione ok benissimo ecco questa parte l'audio ok questa volta usiamo come si deve dire beh, la parte che odiavo è andata benissimo eh guarda adesso qua c'è la scorciatore che dicevo non sul cubetto ma... bensì però sicché niente benissimo allora resta la scorciatore che vi dicevo mettetevi qui regolate la telecamera niente devo fare perfetto e abbiamo preso la stella bene 24 minuti e 20 secondi mhm e... potremmo prendere un'altra stella buona mhm si 58 possiamo arrivarci anche 59 se proprio riusciamo bene mhm facciamo questa questa è un poco lunghina spero di riuscire a farcela in 5 minuti meno meno di 5 minuti molto meno il brigante del lago sotterraneo oh questa hm non mi piace è una delle più brutte vabbè vabbè pensare che in questa galassia c'è l'unica stella che ho dovuto controllare dove si trovava hai freddo o hai paura o hai paura per i voi luciano non è un oceano questo sarà un laghetto piuttosto molto lontano 5 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 6 5 5 5 6 6 6 io non posso riscopare in questo modo 2 minuti ci ho messo soltanto perfetto 7 minuti 27 minuti un'altra stella ci sta non salviamo il gioco bene stella numero 59 arrivo no poi spero che ci sia la galassia la cometà rapida nella galassia appunto no no non credo che ci sia tempesta di palle di cannone questa è carina dove si dovrà prendere poi 100 monete viola no no che c'è eh eh ah eh scusa eh mia mia mamma cagnolino eh 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 non mi faccio pregare due volte vabbè vabbè toccato 2 5 bairro 1 ma 2 5 6 6 Allora, spero di farlo tutto al primo tentativo, sì, di questo passo, quella monetina, grazie. Un'altra monetina, grazie. No, adesso ho una moneta di troppo questa. Vi ricordo che è in 3D, non è in 2, quindi potete muovervi anche su e giù, ecco, sì. Capito? Un'altra parte, ci stavano ancora 10 minuti, oh, l'ho proprio svuotata, è la memoria. Vabbè, mmm. Allora, vabbè, non sono riuscito a prendere il blocco. Perfetto. Basta quei perfetti. La mia vita è perfetta. No, scherzo. Va schifo la mia vita. Ok. Ok. Bene. Quasi finita la parte. Quasi finita la parte perché lì c'è la stella. Questa parte mi sa che la chiamerò, perfetto. E nei 59 stelle, chiudiamo qua. No. Appena... Appena... Vi salutiamo, ciao a tutti, salve. E... Ciao. Oh, mmmm.